Sono Lisa Sentimenti, project manager dell'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena. Qui nell'ambito della settimana della bioarchitettura e della domotica abbiamo presentato un progetto europeo di recente approvazione a cui partecipiamo. Si chiama Save at Work, declinato in italiano Uffici Salva Energia. È un progetto approvato nell'ambito del programma Horizon 2020 e ha come obiettivo quello di coinvolgere almeno 180 edifici del settore pubblico, dei nove paesi coinvolti, in una sfida energetica di fatto, in una gara di risparmio energetico, per cui l'obiettivo è quello di raggiungere in un anno almeno il 15% di risparmio energetico solo attraverso l'adozione di misure di natura comportamentale. E questo sulla scia di esperienze parallele o antecedenti che hanno dimostrato la reale efficacia di anche semplici campagne motivazionali di sensibilizzazione presso il personale degli edifici coinvolti che ha portato appunto a risultati in termini di risparmio sia energetico che economico davvero rilevanti. Qui a livello regionale abbiamo raggiunto quasi il nostro obiettivo di coinvolgere circa 20 edifici. Al momento abbiamo enti della provincia, in gran parte della provincia di Modena, ma anche del territorio ferrarese e del territorio reggiano. Li affiancheremo dal momento, da gennaio di fatto 2016, con attività di formazione, documenti, linee guida, ma anche software, nel concreto per registrare i miglioramenti che grazie all'adozione di queste misure saranno in grado di rilevare e metteremo loro a disposizione tutte le nostre energie, sport e passione per concretamente aiutarli in questa sfida di vincere la gara non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo visto che sono presenti e previsti i premi in diverse categorie appunto sia a livello regionale che a Bruxelles a termine del progetto.